Buonasera e benvenuti a Primo Cittadino, questa sera è tornato a trovarci il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli. Buonasera sindaco. Buonasera a tutti i telespettatori, buonasera Simona, Fanno TV. Grazie, le dico già che sono arrivati i primi messaggi, però come è giusto che sia ricordo i numeri di telefono perché potete intervenire in diretta contattandolo 0721 86 14 33 oppure potete inviarci un breve messaggio di testo anche con Whatsapp al 338 49 68 250. Sindaco, fuori sta piovendo ormai da diverse ore, a Terre Roveresche la situazione è sotto controllo? Sì, è tutto sotto controllo, la pioggia c'è ma non è così abbondante e consistente, quindi meglio. Vorrei partire con lei dall'attualità, partiamo appunto da un articolo di giornale che è uscito questa mattina sulla pagina della Val Cesano a firma di Roberto Giungi, eccolo qua il Corriere Adriatico, si legge servizi ridotti nei municipi, non era questa la promessa, la lista di opposizione noi stiamo Terre Roveresche critica agli orari degli sportelli comunali, compresse in particolare l'operatività a barchi e piagge, dicono servono uffici multifunzionali. Poi all'interno dell'articolo si legge ancora, tale decisione è stata presa dal Sindaco che non si è consultata ancora una volta con prosindaci, consultori e con la minoranza che anch'essa si era presa un impegno preciso in campagna referendaria. Al singolo cittadino serve una mappa articolata non facile da gestire, quindi noi Sindaco vorremmo dare a lei la possibilità di replicare, che cosa è successo? Ci sono queste difficoltà secondo lei? Grazie della possibilità di replicare, sì questo era un articolo con queste informazioni che erano uscite su Facebook qualche giorno fa, poi riprese sulla stampa, sul giornale, ma non è proprio così diciamo, la realtà è un po' diversa perché di fatto l'unica cosa che abbiamo fatto in questi ultimi giorni diciamo così è cambiare l'orario di lavoro dei nostri dipendenti anche perché lo prevedeva e lo prevede il contratto per alcuni settori da 6 a 5 giorni come già accade probabilmente in tanti altri comuni, quindi di fatto in alcuni casi abbiamo fatto un'apertura anche il pomeriggio, quindi per dare la possibilità anche chi vuole il pomeriggio di venire in comune, ma di fatto in alcuni casi penso in principal modo al municipio d'Orciano che conteneva alcuni servizi come la ragioneria eccetera già lavoravano su 5 giorni, a Barchi già l'urbanistica lavorava su 5 giorni e altri servizi, quindi di fatto cambia poco, quindi rispetto a quello che c'era prima del 30 ottobre dopo che è il momento in cui è stato fatto il decreto in cui si è disciplinato un'apertura diversa e comunque si rispetta prima dove gli uffici avevano un'apertura un po' disomogenee abbiamo omogenizzato l'apertura degli orari al pubblico, poi col tempo, perché questa è stata una cosa che abbiamo messo anche noi nel nostro programma, di fare questi sportelli polifunzionali per cercare di essere più vicino al cittadino, poi probabilmente il prossimo anno faremo anche qualcos'altro perché abbiamo in mente anche di aprire degli sportelli non solo nel comune ma anche in altri luoghi Quindi ci sono dei progetti in corso in questo caso, sempre Non bisogna mai fermarsi Abbiamo diverse cose di cui parlare questa sera, partiamo da un accordo venerdì scorso a San Giorgio di Pesaro avete presentato un accordo di collaborazione e promozione tra il comune di Terre Roveresche e un'associazione turistica della Val Pusteria in Alto Adice Diman di che cosa si tratta? Esatto, questo è un accordo fatto con Rio Pusteria che è una parte di questa grande parte della provincia di Bolzano quindi della Val Pusteria, è nata così per scherzo, per caso, perché noi abbiamo una signora che ormai è vent'anni che è qui da noi, Eleonora Goio che saluto, che sicuramente ci ascolterà e ha un suo nipote che è Gabriele Meri che è il rappresentante del marketing di questa associazione venendo qua ha detto, mi disse un giorno, voi avete una potenzialità enorme che probabilmente non riuscite neanche a comprendere perché di solito chi sta in un posto non riesce bene a capire le potenzialità e allora con lui è nato questo accordo dove a vicenda noi ci promuoviamo e il primo banco di prova sarà per noi la Colle Marathon perché anche loro ci tengono molto allo sport e quindi noi utilizzeremo i nostri eventi per promuovere loro e viceversa anche perché Rio Pusteria fa 950.000 presenze all'anno e quindi è un bel bacino da aggredire anche se fosse l'1% di persone che possono venire a contatto con Terre Rovereschi o venire giù sarebbe già un passo avanti anche perché ci sono tante belle realtà nel Comune di Terre Rovereschi tantissime, ogni municipio ha un po' le sue peculiarità ha le sue unicità è vero, poi ne parleremo poi ne parleremo di recente poi è stato, è arrivato un riconoscimento importante per le politiche ambientali sto parlando di verso un'economia circolare esatto, questo anche qui noi nel 2011 quando ancora non pensavamo neanche lontanamente di fonderci quando c'era l'Unione Roveresca chi mi ha preceduto, io ero un giovane assessore dell'ambiente quella volta abbiamo deciso di iniziare questo percorso ricordo gli altri sindaci che c'erano c'era Sauro Marcucci, Landini, Lamarzia a Orciano c'era Guerrino, Paopini che sicuramente anche lui o tutti loro ci ascolteranno allora decidemmo di iniziare questo percorso porta a porta fatto da noi, dall'Unione Roveresca quindi non avvalendoci di altre strutture come capita in altri comuni e da lì piano piano questo progetto è cresciuto sempre di più si è arricchito di tante progettualità dall'ecocentro, il centro di riuso, la tariffazione puntuale e appunto qualche giorno fa ci è arrivata questa bella notizia di questo premio importante quest'anno insieme a noi per esempio l'ha preso Trento quindi siamo in buona compagnia beh un bel riconoscimento il merito è dei cittadini beh certo però insomma anche l'informazione può aiutare l'amministrazione mette in campo i suoi sistemi però il merito è dei cittadini il primo messaggio per lei quando intende sistemare l'orologio nel municipio di Orciano con le due campane delle ore 8 e delle ore 12? adesso a breve ormai quest'anno sarà fatica però il prossimo anno sarà una delle prime cose che facciamo quindi rimettiamo in funzione l'orologio che poi tempo fa un ragazzo me lo portò l'attenzione questo problema e quindi rimetteremo in funzione anche l'orologio e le campane Sindaco commentavamo prima di andare in diretta che in realtà senza volerlo lei è venuto qui esattamente un anno fa esatto era il 3 dicembre e oggi è il 2 quindi siamo lì sempre il clima natalizio in un anno sono successe tante cose in particolare gli asfalti abbiamo una carrellata di immagini che commenteremo insieme a lei ancora da terminare? non sono quella ancora non abbiamo finito perché prima di Natale dovremo terminare ancora altri tratti sicuramente non è sufficiente perché dobbiamo farne altri per toccare un po' tutte le nostre zone però ci teniamo perché qualcuno anche qui in consiglio comunale ha polemizzato voi fate solo gli asfalti solo gli asfalti non li facciamo poi possiamo anche parlare di altri fosse così in altri comuni perché abbiamo soprattutto segnalazioni di asfalti quindi di problemi però le strade tenute bene un comune pulito è il primo biglietto da visita certo e il cittadino è contento dicevamo quali sono state le vie le zone interessate da questi lavori? abbiamo cercato un po' tutti i municipi questa foto qua è a San Pasquale che è una frazione del municipio di San Giole che poi ospita anche il santuario con il patrono del comune di Terre Roveresche poi abbiamo toccato Orciano Barchi qui siamo a Orciano in via Mattei vicino all'ecocentro comunale questo è uno degli ultimi lavori abbiamo fatto anche un po' non tutti perché anche lì avendo un comune molto ampio 70 km quadrati anche lì abbiamo tanti parchi ed è giusto che tutte le frazioni anche le più piccole siano toccate qui siamo dietro il municipio di Piagge un restyling questo è recentissimo siamo a Barchi zona discarica ex discarica anche lì dovremo aprire un grande capitolo questo è Spicello sempre nel municipio di San Giorgio ce ne sono ancora regia? sì ma ce ne sono tantissimi queste Barchi intorno al castello questo è Montebello uno dei primi lavori fatti quest'anno perché poi passava la tappa della Tirreno Adriatica ok andiamo avanti e via ecco qua ancora sempre Barchi per asfalti questo è Spicello sì queste Barchi via Gramsci e ci sono queste San Filippo a Piagge sì ce ne sono tantissimi qui uguale a Barchi queste prima sempre San Pasquale insomma ci sono davvero tanti tanti lavori eseguiti ed è stata inaugurata anche una nuova piazza intitolata a Filippo Terzi Filippo Terzi ecco la vediamo qua dietro sullo sfondo c'è la Porta Nova Filippo Terzi è un architetto che ha disegnato Barchi Barchi insieme a Pienza sono due esempi di città ideale quindi con le proporzioni per capirci dell'uomo vitruviano qui siamo a Fano quindi rimaniamo in tema con l'uomo di Leonardo assolutamente e quindi abbiamo deciso di dedicare e di riqualificare questo spazio qui insieme al tecnico al vice sindaco e l'assessore e l'abbiamo inaugurata giusto prima della partenza della Colle Marathon anche per dare una nuova immagine ancora più importante e imponente per il nostro comune le chiedono sindaco quando arriverà la fibra? allora la fibra ottica allora a Dorciano i lavori sono quasi completati e stando alle informazioni che mi ha dato Open Fiber che è il gestore che sta facendo i lavori dovrebbero renderla vendibile quindi attivata a fine anno invece gli altri tre comuni Barchi Piagge e San Giorgio il prossimo anno già il progetto è in discussione per le autorizzazioni però siamo messi bene anche perché la regione a differenza forse delle volte passate ha voluto prediligere i piccoli comuni dell'entroterra e quindi ci siamo uno parlavamo prima appunto di questo premio intitolato verso un'economia circolare diceva che il merito molto è dei cittadini però insomma anche la giusta informazione da parte dell'amministrazione comunale può sicuramente dare i suoi frutti di recente circa due settimane fa è stato si è terminato un progetto di educazione progetto terre educanti perché partire dal basso può fare la differenza è l'arma vincente su tutti i fronti il progetto partiva dal basso ed era rivolto ai docenti e soprattutto anche ai genitori lì vediamo uno dei primi il primo evento è stato con Daniele Novara che è pedagogista veramente importante e famoso e questo progetto è stato possibile per due cose uno l'interessamento della nostra commissione consigliare della scuola per la pubblica istruzione e poi anche grazie alla regione che ha finanziato il progetto grazie al consigliere Talè e quindi è stato tutto più facile più semplice che cosa quale obiettivo ha avuto l'obiettivo era quello di poter dare degli strumenti ai docenti e ai genitori per educare nel miglior modo possibile i nostri figli che poi sono il nostro futuro tutto qua assolutamente sì buonasera quando sarà possibile avere i numeri civici nella zona artigianale di Cerbara? adesso arriveremo anche lì questa è una cosa che non conoscevo quindi bene il cittadino che l'ha segnalato ci attiveremo Terre Roveresche sempre online è nato anche Terre On Air sì anche questo è sempre un un modo per poter dare voce al nostro territorio non solo all'amministrazione perché questo spazio è aperto alle associazioni la volta scorsa c'è stata la Proloco la prossima prossima data che è il 13 di dicembre venerdì che porta fortuna anche se è venerdì 13 ci sarà l'associazione Antaclè Barino Saudelli il presidente dell'assemblea delle associazioni che parleranno insieme all'amministrazione di quello che si fa e non solo è anche uno spazio volendo anche per gli operatori economici che vogliono vogliono promuoversi vogliono farsi conoscere altra novità molto importante riguarda Targa System quindi delle telecamere nei barchi principali della città anche se forse non è finita qua non è finita qua perché questi sono i primi sette barchi che abbiamo installato nei punti strategici di comune accordo con la nostra Polizia Municipale e con i carabinieri quindi con la stazione di Terre Roveresche e col comando di Fano adesso da qui ne serviranno altri quindi però il sistema è facilmente implementabile questo è stato il primo il primo passo il primo step per rendere più sicuro il territorio esatto quindi insomma è importante la presenza delle forze dell'ordine ma sicuramente queste telecamere danno una buona mano questo è un sistema molto funzionale e importante perché permette e già i nostri vigili hanno fatto esperienza di fermare macchine revisione scaduta assicurazione scaduta e in alcuni casi anche sequestrate quindi puoi immaginare certo certo passiamo invece alla piscina partiamo dall'inaugurazione fino ai progetti che riguardano la prossima primavera esatto che andranno al prossimo anno abbiamo ristrutturato la piscina per un importo di 110 mila euro perché la piscina ha bisogno di un nuovo sistema di filtrazione e di un nuovo di un nuovo di un nuovo basamento di un nuovo sistema anche per la pulizia eccetera questo è col metodo nuovo a sfioro rispetto a quella che c'era prima e però fortunatamente l'anno scorso quest'anno perdon siamo riusciti ad entrare con il bando sport e periferire a prendere un contributo di 500 mila euro e quindi il prossimo anno grazie anche a una parte di risorse che mette l'amministrazione riusciremo a coprirle e quindi la struttura può essere fruibile tutto l'anno e quindi diventa un ulteriore tassello che mettiamo nel nostro centro sportivo di Pieve Canetti poi dopo il prossimo anno ci dedicheremo anche agli altri perché non dobbiamo lasciare indietro nessuno c'è il centro di sportivo di San Giorgio che ha bisogno di una di un piccolo piccola rinfrescata diciamo così perché dopo tanti anni ha bisogno di un bel restyling importante sì sempre e poi anche a Piagge investiremo delle risorse anche perché sono dei luoghi importanti di aggregazione non soltanto di sport sì alla fine sono luoghi di aggregazione di sport per tutti per le famiglie quindi fondamentali sempre nella zona artigianale di Cerbara c'è una macchina abbandonata da più di due mesi ma nessuno interviene è bene segnalare insomma queste cose anche perché possono sfuggire a proposito di buche se ne sta prendo una sotto il varco tra Orciano e Mondavio quindi magari visto che dovete finire questi interventi la buca nel varco sotto Orciano e Mondavio forse è una buca lungo la provincia l'ho vista l'altro giorno passando sì si può coprire il palo a Simone bene questo è stato un momento bellissimo questo qui lo vediamo prima nell'inaugurazione appena terminato anche con i lavori di competenza dell'amministrazione ma è stato donato da Doriana Gabbianelli per questa è una storia che tanti conosceranno probabilmente perché è un po' che gira però è stato intitolato a Simone perché Simone era il figlio di Doriana che è morto in circostanze tragiche e allora la signora con un grande gesto di verso la comunità ha deciso di donare la somma che l'assicurazione aveva dato per qualcosa che servisse per la comunità di Barchi oggi Tere Roveresche e quella volta l'amministrazione ha deciso per una palestra e quindi ecco è nato il Palasimone che abbiamo intitolato il taglio del nastro esatto qui con con Doriana la mamma di Simone a fianco c'è il vice sindaco del comune francese con cui siamo gemellati il consigliere regionale Talè insomma dei bei momenti importanti e hanno un significato di significato sì ci fossero cittadini come la signora c'è stato anche un progetto con Sant'Ippolito quindi comuni vicini che uniti riescono a fare tanto questo fa parte del progetto che si chiama Orizzonti della Rovere e in poche parole non è altro che un percorso che si snoda da Sant'Ippolito passando per Tere Roveresche un percorso ciclopedonale aperto ecco perché si chiama senza limiti anche all'utilizzo di carrosselle o anche di questa carrozzella ma è forse riduttiva chiamarla carrozzella che si chiama Jolette che serve per portare le persone con disabilità nei parchi in mezzo alla natura e questa sarà mi dispiace che Eleonora ha rovinato la sorpresa perché sabato abbiamo la presentazione della Corsa dei Babbi Natale che è tredicesima edizione che si terrà il 22 di dicembre da Barchi a Piagge beh è stata rovinata la sorpresa dice sì perché all'interno è stata svelata perché ci sarà la Jolette che verrà trainata portata da Barchi a Piagge e chi trainerà saremo io il vice sindaco Claudio Patrignani e quindi era una sorpresa dopo con i social oggi Eleonora eccola la svelata ma va bene così anche perché poi vedendo questa fotografia tutti hanno diritto di poter partecipare a queste iniziative e la Jolette serve per questo poi noi l'abbiamo proprio grazie a Eleonora che l'ha donata la messa a disposizione del comune può essere affittata da chi vuole si reca il castagno che è a Dorciano che è la struttura al quale l'abbiamo consegnata e quindi può essere utilizzata la scritta a terra e roberesche con le piante che è stata fatta a Dorciano ha bisogno di una sistematina visto che purtroppo sta scomparendo ci dicono sta scomparendo qualche piantina si è seccata quindi è stata sostituita con quelle nuove quindi un po' di tempo serve per prendere vigore quindi scompare o non scompare essendo naturale Sindaco volevo sapere invece della scuola di San Giorgio che fine ha fatto la ditta che doveva finire i lavori che fine farà? La fermo perché andiamo per qualche istante in pubblicità e poi parleremo anche di edilizia scolastica e non solo Siamo tornati in diretta con il Sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli in sovrimpressione avete sempre i numeri di riferimento per poter intervenire in diretto oppure per inviarci messaggi dicevamo Sindaco volevano sapere della scuola di San Giorgio che fine ha fatto la ditta che doveva finire i lavori la ditta e qui è presente poi anche di Fano quindi anche del posto non dobbiamo andare neanche lontano c'è stato un lungo rallentamento anche significativo perché ad aprile di quest'anno è cambiata una norma legata alla parte sismica c'è stato un decreto perché capita che da noi ogni volta che tagliano la burocrazia invece questa aumenta e quindi per questo ha portato a far sì che il progetto che prima era un semplice deposito è diventato autorizzazione quindi allungato i tempi in maniera spaventosa perché poi dicono sempre che le norme sono 60 giorni servivano ma poi se ne sono prese 120 e quindi la ditta stando a l'ultima comunicazione di ieri perché poi ci siamo già sentiti dovrebbe riprendere il cantiere mercoledì giovedì di questa settimana quindi poi ci sarà la pausa per le vacanze natalizie poi si continuerà San Giorgio si ci siamo rallentati ma grosse preoccupazioni non ne destra perché comunque sia non aveva costruzione quello dove invece abbiamo un po' più problemi è a Dorciano visto che parliamo di elizia scolastica comunque voi avete fatto tutti i vari controlli che dovevano essere seguiti comunque sia soprattutto per tutti i ragazzi in generale però una scuola che sia non solo dal punto di vista sismica sicura ma che abbia anche gli spazi adeguati per fare lezioni per fare e per l'insegnamento quindi in un caso specifico che piagge abbiamo deciso di costruire un nuovo asilo quindi un unico piano costruzione nuova antisismica siete alla ricerca di fondi da intercettare no lì abbiamo già trovato i fondi perché siamo nel piano triennale siamo inizi aspettiamo solo il decreto il progetto definitivo e l'esecutivo lo stiamo approntando e quindi possiamo poi appaltare direttamente la scuola e lì parliamo di 2 milioni e 200 mila euro di investimento di cui l'85 90% è a fondo perduto quindi è anche quello di un risultato importante però dicevo giusto che parliamo di elizia scolastica dove abbiamo qualche problema in più è Dorciano dove un progetto iniziato con le precedenti amministrazioni probabilmente non conforme anche se i tecnici l'avevano detto a chi mi ha preceduto che quelle risorse non erano sufficienti quindi abbiamo dovuto mettere in campo insieme al comune di Mondavio perché quella è una scuola dei due comuni Orciano prima altri 400 mila euro lì c'è stato un problema perché la ditta che faceva i lavori siccome era inadempiente l'abbiamo dovuta mandare via quindi adesso faremo una nuova gara per gli infissi adesso chiuderemo per l'inverno e quindi poi a primavera metteremo gli infissi finiremo i lavori e andremo avanti però qualche volta dà fastidio che qualcuno dice anche chi mi ha preceduto e che forse doveva anche comportarsi probabilmente in maniera diversa questa amministrazione quindi tutta quindi non solo il sottoscritto gli assessori e i consiglieri si dimenticano e trascurano quella che è l'edilizia scolastica che proprio è una bagianata esatto andiamo avanti con le segnalazioni buonasera sindaco sono un residente di via Kennedy segnala il continuo lagamento durante le piogge della sede stradale nel tratto dell'ex frana di Orciano in un punto molto pericoloso prima dell'ex frana lo so tra il municipio e prima del punto dove la strada ci fu la famosa voragine lì probabilmente dovremo abbiamo cercato di pulire le caditoie che già ci sono non saranno sufficienti dobbiamo raddoppiare le caditoie che ci sono per poter far defluire al meglio l'acqua arrivano si so bene dove è il punto perché ormai il territorio comincia a conoscerlo bene arrivano anche messaggi per fargli complimenti i patrignani e i sebastinelli un connubio doc ci scrivono speriamo che duri nel tempo funzionale e costruttivo dalle attività dei lavori pubblici e gestione delle risorse insomma riconoscono il lavoro che sta facendo le strade bianche quest'anno come si sistemano? in questo caso la zona di riferimento quella di San Giorgio abbiamo iniziato quest'anno l'anno scorso abbiamo iniziato da piagge siamo andati verso Barchi quest'anno abbiamo invertito abbiamo iniziato nella zona di Schieppe adesso lo stiamo finendo il tempo un po' ci ha rallentato quindi poi passeremo a Barchi e torneremo giù ma quelle che possono dare dei problemi riconosciamo quindi probabilmente già a mercoledì perché mi immagino già qual è la strada in questione andremo ad intervenire anche perché ricordo noi abbiamo un'infrastruttura stradale di strade asfaltate 125 km e altrettante di strade bianche quindi 250 km di infrastrutture stradali non sono poche beh no assolutamente quindi metà e metà metà e metà benissimo per quanto riguarda l'illuminazione pubblica invece ci sono dei progetti ad esempio sostituzione con le luci a led per avere l'uso energetico è un pallino che noi abbiamo sempre avuto io quando era a San Giorgio e tuttora abbiamo un problema che lo so perché ogni volta che c'è pioggia a barchi succede un casino ma avendo un impianto molto molto vecchio questo è il problema quindi il prossimo anno interverremo e inizieremo proprio da lì e poi dopo andremo giù a Dorciano San Giorgio era già passata a led e poi passeremo anche a piagge quindi a step anche in questo caso anche lì a step cominciando dai punti dove appunto abbiamo maggiori criticità e maggiori problemi il lago delle rose nel municipio di Barchi in un luogo unico nel suo genere ma inaccessibile ai cittadini possiamo sognare nel prossimo futuro una strada percorribile da tutti per poterlo raggiungere? la strada è già percorribile essendo bianca ha bisogno di una manutenzione infatti che è iniziata proprio questa mattina perché poi il 7 laggiù avremo l'accensione dell'albero e poi un albero di 23 metri quindi non è piccolo no assolutamente è unico nel suo genere perché in un lago poi lo racconteremo insomma a fine tutte le varie iniziative natalizie il semaforo di piagge a cosa serve? le chiedono perché scatta il verde dal lato castello che passa una macchina all'anno? quello fa parte si può realizzare una rotatoria magari per non creare problemi allora quello è un vecchio progetto che c'era prima è stato messo come deterrente come sistema per rallentare un po' il passaggio delle macchine specialmente in quel punto dove c'è una strettoia e scatta al verde anche il lato castello perché chi viene da là deve comunque entrare e passare o una macchina all'anno o due e anche quelli hanno diritto ad entrare ed uscire ed immettersi quindi quando c'è un semaforo questo è il problema lì la rotatoria non è possibile farla sapevo anche di una sede dedicata alle ambulanze esatto a Fornace nella località Fornace c'era un vecchio stabile che era una una scuola d'agrario usata nel passato immobile che ormai era utilizzato ultimamente come deposito abbiamo fatto un progetto e che stiamo già ristrutturando i lavori sono partiti quindi penso che prima della primavera del prossimo anno forse anche prima per febbraio-marzo inaugureremo questa nuova sede che ospiterà non solo un'ambulanza ma poi anche degli ambulatori che saranno gestiti dalla fondazione articolo 32 che abbiamo costituito insieme ad altri comuni e che ha proprio lo scopo di cercare di lasciare sul territorio quei servizi che servono ai cittadini perché poi l'importante è avere dei presidi che in cui comunque sia c'è una un'attenzione sull'emergenza urgenza perché qui è la prima problematica anche dovuta alla situazione delle nostre strade specialmente di qualche strada provinciale non dico tutte ma soprattutto nel nostro versante poi specialmente se si va da Urciano verso Barchi Sant'Ippolito la situazione è disastrata sembra che quest'area del nostro territorio mi scuso per lo sfogo mai così è dimenticata noi abbiamo due frane a Barchi e vent'anni che sono lì forse anche di più quindi non di competenza no ce n'è una davanti adesso è arrivato a un punto che ci investiremo noi come comune perché non si può abbiamo immagino non abbiate fatto anche diverse sollecitazioni è vent'anni che si sollecita sembra che questo territorio è dimenticato come non sia invece è un territorio che è importante come tanti altri come tutti gli altri e allora forse un'attenzione è un riequilibrio di tante risorse che negli anni sono state spese verso altre parti di questa provincia quindi verso il Foglia e di là sarebbe ora di cominciare a guardare un po' di più verso questa ballata negli anni verrà privatizzato anche l'ecocentro mai ecocentro è gestione del comune con gli operai comunali sicuramente lo potenzieremo potenzieremo il centro del riuso ma tutto il sistema della raccolta differenziata che noi facciamo cercheremo di continuare finché la norma le leggi ce lo consentiranno perché poi se cambiano le norme poi a un certo punto contro la legge non possiamo andare però lo manteniamo nelle nostre mani anzi cercheremo anche di mettere in campo altri progetti perché poi alla fine siccome qua giù a Fanno specialmente c'è questo dibattito con il digestore è vero? con l'impianto anaerobico c'è un po' di risposta continua ancora lì venirebbe cominciare a pensare che i rifiuti sono una risorsa importante ed è un bene della comunità e quindi dovrebbero essere utilizzati nella comunità di riferimento quindi al posto di fare impianti così enormi sarebbe più opportuno che ogni comunità si facesse il suo è tutto più semplice perché poi dopo la paura molte volte del cittadino è quando l'impianto è molto grande è vero che abbiamo tutti i controlli del caso ma sai invece se l'impianto è piccolo è tarato ed oggi le tecnologie ci sono anche perché e non bisogna mai vedere i rifiuti come un profitto ma soprattutto come massimizzare quel beneficio per la nostra comunità quindi un investimento è un investimento dovremmo avere Regi anche una foto inerente al marciapiede presso la fornace nel municipio di Orciano e la piazza ecco qua ecco questo è i lavori sono partiti una settimana fa settimana scorsa e questo è il famoso camminamento che dovrebbe che collegherà la zona e il monumento dei caduti con questa zona importante specialmente nel passato ma tutt'oggi importante nel passato dava lavoro a tantissime persone di tutto ma che veniva tutta la provincia perché c'era una fornace importante e quindi li faremo questo camminamento pedonale era atteso come progetto era da tantissimi anni ci siamo riusciti ci siamo riusciti ci può svelare anche qualche altro progetto in cantiere per i prossimi due anni ne abbiamo tanti perché comunque sia dobbiamo toccare dalle scuole alle strade le scuole alle strade abbiamo in programma comunque di riqualificare le nostre piazze a piagge a San Giorgio perché comunque sia sono luoghi di aggregazione abbiamo sarà quello è un sogno veramente probabilmente noi riusciremo ad iniziare qualcosa poi forse chi verrà dopo potrebbe portare avanti il palazzo della Rovere a Dorciano quella potrebbe diventare la sede anche del comune perché diventa una sede prestigiosa mi parla anche di monumenti importanti l'itinerario archeologico con la grotta Ipogea cioè è stato un accordo una presentazione con la Conf Commercio poche settimane fa non ricordo il giorno preciso però importante per valorizzare le bellezze siamo in un circuito che è vicino a quello che è il circuito della bellezza però questo va a guardare a toccare quello che è l'itinerario archeologico noi siamo fortunati perché tempo fa mai dieci anni fa l'architetto Polverari ha scoperto questa grotta Ipogea a Piaggia e quindi diventa una unicità infatti prima si parlava ogni municipio e la sua specificità Piaggia è la grotta Ipogea a Barchi abbiamo appunto la città ideale di Filippo Terzi a Dorciano è disseminato a San Giorgio uguale pieno di chiese chiese piene di quadri importanti e quindi è tornata la luce nel 96 una possibilità anche per tutti i cittadini dell'entroterra non solo per i turisti perché scommetto che in tanti ancora non abbiano visto questo luogo sotterraneo meraviglioso è una cosa unica da visitare abbiamo avuto anche una coppia che si è sposata ha fatto le foto lì sotto un giorno indimenticabile in luoghi magnifici giustamente passiamo agli eventi agli eventi natalizi le festività anche in questo caso prossima settimana ci sarà questa settimana perché questo fine settimana una importante inaugurazione è l'accensione dell'albero l'accensione degli alberi degli alberi perché in ogni ex comune esatto quattro municipi quattro alberi abbiamo comunque si è toccato anche con le luminarie e tutte le frazioni e poi c'è questa particolarità l'ago delle rose estritto dall'associazione Siforistrada l'accensione questo è il terzo anno di un albero di 23 metri pieno di luci con il suo spettacolo eccetera un abete vero non è vero è lì intorno al lago c'è un abete in particolare il più grande viene addobbato quello rimane sempre quello accensione alle ore 18 e poi da lì prenderà vita anche un po' ci sarà un momento di festa con le varie luminarie esatto e poi tutte le altre c'è anche un altro evento conosciuto sempre di più che è la Corsa dei Babbi Natale la Corsa dei Babbi Natale questa è domenica 22 come dicevo prima anche io e il vice sindaco correremo lui sempre corre sempre perché lui lei non è così abituato no sono meno abituato però per la causa faccio la corsa anche perché qui più che correre si cammina abbastanza velocemente e quest'anno porteremo io e Claudio scorteremo la Jolette e non si radunano tantissime persone sulle 400 500 poi dipende anche sì dipende dal tempo chiaro e poi c'è l'altra manifestazione importante che si tiene a piaggio intorno al castello la Corsa degli Elfi quindi i più piccolini fanno la Corsa degli Elfi e vengono anche da fuori comune tutte le marche o più anche oltre non dico anche per la Colle Marathon vengono anche dall'America però per la Corsa degli Abbi Natale no ricordatamente in costume esatto per chi non l'avesse mai visto eh tredicesima edizione quindi domenica 22 da Barchi a Piaggi questo è il percorso storico e classico non solo questo perché si esibiranno poi anche il coro la banda il coro il 22 di dicembre poi abbiamo la banda il 26 di dicembre per Santo Stefano e il 30 che è l'ultimo concerto prima della fine dell'anno e poi si riparte prima di chiudere sindaco un ultimo messaggio per i due campi da tennis di Orciano perché almeno uno non coprirlo? beh questo è un progetto anche presentato dall'associazione che attualmente li gestisce è un progetto che non è che abbiamo parlando con loro abbiamo cercato di capire quale possono essere le fonti di finanziamento sì coprire significa avere un campo a disposizione tutto l'anno questo è vero però dobbiamo anche tenere presente che abbiamo anche altri centri quindi sparsi su altri municipi quindi dobbiamo bilanciare un po' le cose perché dopo è questo che è importante certo sindaco speriamo di rivederci prima del prossimo dicembre speriamo se no avremo l'abitudine ci vediamo a dicembre così anche il modo per fare tutti i lavori e per fare gli auguri di Natale assolutamente sì quindi ricordiamo gli appuntamenti per questo fine settimana ricordiamo le date e che cosa ci sarà il 7 di dicembre alle ore 18 l'accensione dell'albero alle 5 e mezza mi sembra prima in piazza Barchi uguale c'è Babbo Natale per i bambini l'accensione delle luci e poi i vari concerti che si terranno il 22 il 26 il 30 dicembre e poi la Befana il 5 gennaio anche se abbiamo finito non voglio deludere questa telespettatrice o telespettatore ci fanno incontro per la trasmissione ma vogliono chiederle sindaco se su terra Roveresche fosse ancora attivo il servizio di raccolta rifiuti Tok Tok di Juncker adesso al momento Tok Tok la sperimentazione è sospesa riprenderà però perché abbiamo raccolto tutti i dati per capire quanto il trasporto dei rifiuti o il potere attivare o meno può incidere sulla quantità di CO2 prodotta quindi al momento è fermo ma ripartirà grazie sindaco per aver dato una risposta anche a questo telespettatore e buone festività di Natale buone festività a tutti diciamo appunto è l'occasione per augurare un sereno Natale non solo a tutta la comunità di Terra Roveresche ma a tutti quelli che ci seguono e a voi della redazione grazie mille ricambiamo anche da parte del nostro direttore Marco Ferri grazie di nuovo al sindaco di Terra Roveresche Antonio Sebastianelli grazie a tutti voi per averci seguito buon proseguimento di serata ringrazio anche Cristiana Guerra e Riccardo Sora il regia tra pochi minuti trasmetteremo ancora un po' presto 10.30 alle 22.30 trasmetteremo il telegiornale di mezzasera grazie ancora sindaco grazie a voi grazie a tutti